Com'è la mia esperienza qui in Promixon? Com'è la mia esperienza che è partita dal 1990 nel campo della miscelazione del PVC dove ho cominciato a lavorare nell'azienda di famiglia che a sua volta era specializzata nella produzione di macchine e impianti per la lavorazione di materie plastiche, anche qui miscelatore. Lì mi sono subito appassionato del mio lavoro come tecnico in officina facendo un'esperienza pratica sulla costruzione e il collaudo dei nostri impianti, collaudo anche in svariati paesi in giro per il mondo, dove poi alla fine sono riuscito anche ad acquisire l'esperienza sul campo dell'utilizzo degli impianti di miscelazione per il beneficio e la garanzia del risultato dei nostri clienti. Dopo alcuni anni in questa esperienza mi sono spostato sulla parte commerciale, dove a quel punto ho incominciato ad apprendere le tecniche e i sistemi per poter convincere i clienti a comprare i miscelatori, che poi venivano collaudati da altri tecnici con successo. Anche qui praticamente l'esperienza tecnica fatta negli anni di officina e sul campo come collaudatore mi è servita moltissimo, perché mi è servita anche come approccio per cercare di fare quell'indagine con i clienti in fase di approccio, per cercare di offrire sempre l'assoluzione migliore alle loro esigenze. Logicamente se c'è un'esigenza bisogna scoprire quale sia per poter fornire esattamente il prodotto necessario, il prodotto servizio connesso al prodotto necessario per risolvere uno specifico problema del cliente. Questa attitudine mi ha portato ad avere molto successo sui sbagliati mercati, da prima l'Asia, poi il Medio Oriente e poi gli Stati Uniti nello specifico. Dopodiché mi sono dedicato alla gestione generale dell'azienda, anche questo con buoni successi e una forte espansione, e alla fine poi mi sono ritrovato qui in Promixon. Ora non sto a parlare di tutto quello che mi ha portato qui in Promixon, però in realtà in questo momento qua, in tempo presente, sono qui alla Promixon, con tutto il bagaglio tecnico e di esperienza che ho fatto in 23 anni di esperienza nella precedente realtà. Qui in Promixon ho tutta una serie di colleghi altamente specializzati e di grande esperienza e di forte motivazione che mi aiutano a realizzare il mio sogno, che è quello di fornire impianti di miscezione sempre più performanti, sempre più con un rapporto costo-beneficio il migliore possibile, e attuare ulteriormente l'espansione di questa nuova realtà su tutto il pianeta, nel mercato della miscezione delle materie plastiche e vernici in polvere. Per fare questo abbiamo riprogettato, anzi progettato tutte le nostre macchine da zero, ovviamente facendo il tesoro delle esperienze precedenti, però introducendo moltissime variazioni e miglioramenti al fine di migliorare l'efficienza di misceazione nei tubo misceatori, l'efficienza di raffreddamento nei raffreddatori, il controllo, l'interfaccia uomo-utente, l'utilizzo da parte degli operatori, l'affidabilità delle macchine, i tempi di consegna e il servizio di conseguenza. Logicamente il servizio, Promix è una società principalmente di prodotto e servizio, le due cose, non è che una cosa esclude l'altra, le due cose sono proprio intimamente collegate. Noi siamo perfettamente consapevoli che non possiamo fornire un ottimo prodotto senza poi anche garantire un ottimo servizio al cliente di assistenza, di supporto, di consulenza, infatti frequentemente sia in fase di preordine che in fase di post vendita, diamo tutta un'assistenza tecnica, di processo anche per ottenere il meglio nella miscelazione del prodotto che il cliente intende produrre con i nostri miscelatori e fino adesso devo dire che stiamo avendo un ottimo successo. Infatti l'anno scorso, nel 2014, abbiamo consegnato 37 impianti di miscelazione in tutto il mondo, si va dagli Stati Uniti al Medio Oriente, all'Italia, alla Spagna, alla Russia, all'Inghilterra, al sud-est asiatico, ai paesi del Nord Africa e anche in Sud America. Quest'anno abbiamo iniziato anche molto, stiamo cominciando già a raccogliere altri frutti, perché questa è una nuova avventura, quindi praticamente ogni giorno è una crescita per la Promixon. Il dato stabile che comunque dovete tenere conto è che per la Promixon la crescita è fondamentale ed è quello che sta avvenendo, è un dato rifatto. Infatti, attualmente, oggi, in questo momento qui, siamo già quasi a metà della gestione del 2015, abbiamo già in casa ordini che superano di gran lunga il totale degli ordini che abbiamo fatto in tutto il 2014, quindi quest'anno prevediamo un raddoppio della nostra cifra di affari, della nostra consegna di miscelatori, diciamo consegna di soluzioni ai clienti, di aiuto ai clienti. Questo perché per diversi fattori, prima di tutto per la nostra reputazione, anche nel 2013 quando siamo partiti e poi si è sviluppato tutto nel 2014, tanti clienti ci hanno dato fiducia sulla base della nostra conoscenza personale negli anni, sia mia che dei tecnici che mi hanno sempre affiancato negli anni precedenti. Ora, questa fiducia è stata ben ripagata da parte di Promixon, perché gli impianti che sono stati consegnati sono funzionanti, funzionano bene, abbiamo zero contestazioni e in più entriamo in quella fase di marketing dove alcuni nostri clienti forti, che sono bravi clienti che crescono, già dall'inizio di quest'anno hanno avuto la necessità di ordinare il secondo impianto. Quindi abbiamo introdotto la nostra statistica del riordino dei clienti. Quest'anno abbiamo già circa una decina di ordini, di tutti gli ordini che abbiamo acquisito dall'inizio dell'anno oggi, di clienti che hanno ordinato il secondo impianto. Va da sé che se il primo impianto non andava bene e non mantenevamo le promesse o venivamo meno alla fiducia data personale data all'inizio, il secondo impianto non l'avrebbero ordinato. Ovviamente con questi stessi clienti qua e con tutti gli altri clienti nuovi puntiamo a vendere anche il terzo e il quarto, perché la legge di base è che se il nostro cliente cresce cresciamo anche noi insieme. E da qui si ritorna al discorso della crescita. Detto questo, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi terremo aggiornati su tutti i nuovi sviluppi qui in Promixon. Non ultimo l'espansione che stiamo avendo. Buon lavoro.